Appena stato osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di un tifoso del Signa, Rossano Masotti, che viene onorato anche con il capitano Angelo Coppola, lo vedete che consegna un mazzo di fiori al figlio del storico dirigente signese che ci ha lasciato proprio venerdì scorso un paio di giorni fa, quindi grande commozione da parte della squadra signese dei tifosi, dei boys del Signa e del figlio che saluta, lo vedete, la tifoseria signese ringrazia in zona play-out esattamente al terzo ultimo posto della classifica comincia in questo momento il match che è diretto dal signor Alban Zadrima molto attente dietro a non prenderle, parte il fischio, Coppola direttamente verso la porta, palla sulla barriera poi ancora Coppola stavolta col mancino e pallone che diventa buono ma c'è il fuorigioco, il fuorigioco da parte di Carlucci sappiamo quanto la scaramanzia nel calcio abbia un ruolo importante, intanto il pallone verso l'area di rigore proprio della Forti Juventus lo controlla il Rosi, poi arriva Ficara, la sua battuta sul fondo, proprio ora la segnalazione da parte dell'assistente numero uno per intanto attacca il signa, il pallone sul mancino per Carlucci la signa e Forti Juventus, quindicesima giornata del girone B di eccellenza, 0-0 il risultato alla fine del primo tempo comincia in questo istante la ripresa, primo tempo in questo match, ecco il sinistro di Carnevale, ha battuto tutti molto bene, anche questo molto bene palla in area di rigore, arriva Innocenti, la sua battuta sul fondo di centro basso, sempre molto pericoloso, il cross interessante verso Betti poi però la chiusura del signa, ancora Betti, va a terra e calcio di rigore c'è il calcio di rigore abbastanza netto per il tocco di Cecchi, non ci sono proteste infatti Lorenzo Betti, il suo destro e la palla in rete, Fortis in vantaggio al 27esimo minuto di gioco poi gli ruba il pallone fedele, il lancio è buono per Costa che va a sfidare uno contro uno l'avversario lo salta, attenzione Costa, entra in area di rigore, il tocco per Betti e la palla in rete, il raddoppio della Fortis al 37esimo, la grande azione di Costa rifacciamo uno strap alla regola, il nostro migliore in campo, intanto è un gran colpo di testa di Falorni che copisce il palo su questa azione, direi infatti, arriva il tripice fischio da parte di Zadrima di Pistoia signa 0, Fortis 2 Sì Sì